Tra i settori maggiormente colpiti dalle restrizioni anticondagio emanate per contenere quanto è più possibile la diffusione del Covid-19, c'è sicuramente il mondo dello spettacolo e non solo per quanto riguarda la disoccupazione dilagante nel settore, che da mesi tiene tragicamente sull'astrico decine di migliaia di lavoratori, ma anche per gli utenti, a partire dai bambini che amano frequentare scuole di recitazione e quant'altro. Ma tra tante negatività ci sono anche cose belle e buone notizie. Alla chiusura dei teatri contenuta nel nuovo DPCM, il Teatro Polifunzionale Dischi, ad esempio, risponde con un'iniziativa pensata per i bambini e le famiglie. Sono i giorni in cui il teatro avrebbe dovuto proporre il consueto programma specifico di teatro per ragazzi. Nell'impossibilità di una presentazione, lo staff del teatro ha creato una nuova iniziativa completamente gratuita per fare compagnia ai bambini e alle famiglie durante questo periodo di lockdown. Favole al telefono. Prende in prestito il nome dell'opera di Gianni Rodari, di cui da poco si è ricordato il centenario della nascita. L'autore immagina la vita di un rappresentante che alle nove in punto di sera, in qualsiasi parte d'Italia, telefona alla figlia per raccontarle una favola. Così le attrici e gli attori del Poli leggeranno a chiunque voglia ascoltare le favole più belle di Rodari, un modo per intrattenere i bambini, ma non solo, anche di mantenere un rapporto con il pubblico e infondere la magia del teatro nelle case anche attraverso una semplice telefonata. Una piccola forma di teatro a distanza per i bambini e per le famiglie. Partecipare all'iniziativa è molto semplice. Basta inviare un messaggio su WhatsApp al numero del Poli, che è lo 081 98 4831. Scrivere il nome del bambino, l'orario e il giorno in cui si preferisce essere chiamati e a quell'appuntamento risponderà un'attrice o un attore che reciterà per i più piccoli. Un modo per non abbandonare il teatro e soprattutto il pubblico dei ragazzi che segue da anni le iniziative del Poli.